Eccoci di fronte alla libreria creata da Lara Favaretto. I visitatori sono più invitati a prendere un libro nel quale c'è un'immagine fatta appositamente dall'artista e chiunque voglia può prendere un unico libro e portarlo a casa. Chiediamo ai visitatori cosa hanno scelto. Hi, where are you from? Belgium. So, are you enjoying this installation? I think it's very much interesting. Oh, really? Having the opportunity to choose a book and having a great picture in it. Yeah. Which one? Just this one. Wow, sounds cool. Great. Great. So, which book is this? To Jerusalem? And that, the first archive? Oh, nice. Oh, yeah. I feel like that. It's like a Santa. It's like a Santa. It's like a Santa. It's like a Santa. I like that. Yeah, it's kind of random. It's like a Santa. Yeah, I feel like that. Yeah, yeah. It's like a Santa. It's like a Santa. Grazie a tutti.